Tra i protagonisti al proprio ritorno in pista in questa tappa della Trofeo Super Cup anche Mario Cagliani al proprio ritorno naturalmente sulla Porsche 911 GT3 Cup. Allora Mario quali sono le tue aspettative per questo weekend su un tracciato dalle caratteristiche molto particolari, insomma pensi di poter battagliare per le posizioni di vertice? Lo spero, spero di battagliare perché c'è una velocità notevole a Monza, a Monza contano molto motore e freni, dovrei riuscire a battagliare abbastanza bene con gli avversari, quelli forti che le altre volte sulle piste con molta guida e molte curve sono riusciti a battermi. Senti dove si fa il tempo a Monza? Il tempo a Monza si fa nelle due di Lesmo e alla Scari perché il resto è tutto motore, schiacci e vai, quindi due di Lesmo e a Scari sono le più importanti. In ogni caso il fatto di poter gareggiare in un tracciato ricco di storia, fascino e tradizione rappresenta sempre un'emozione particolare? L'emozione è sempre fortissima perché Monza è veramente considerato il tempio della velocità, sono più divertenti altri circuiti per la guida ma questa è la storia, quindi è Monza, è importante. Allora grazie a Mario Cagliani, in bocca al lupo per il weekend di Monza. Grazie.